minchia ibi arabo valese oh ma ibs ragazzi è contenuto per youtube pensavo fosse un arabo invece ibs di solito gli arabi ce l'hanno capito la foto profilo così i nomi strani grande contenuto per youtube da quanto non trovo ibs calmati andiamo dietro con molta molta calma aspettiamo fake vieni qua ibs vieni vieni passamela grazie passiamo la mate lateralmente bravo continuo di bravo e mezza di notte anche no aspettiamo ibs con molta molta calma dobbiamo rubare il boost mi sono distratto rip raga 26 di boost per noi pam mi sono caccato addosso non l'ho visto madonna impazzito dovrebbe essere abbastanza easy per il boss attenzione vai falchetto vai falchetto falchettino questa è bruttissima vieni qua ibs pushami sai il coraggio vedi ibs subito in difficoltà 1-0 disattiviamo gli alert e let's go portiamoci a casa questo grande contenuto ibs subito distrutto da 2023 bella per lui seguiamo eeeh olè finta ibs non era nessuno prima di quello che mi serviva su youtube quello con mio fratello la famosa clip tutti l'hanno vista la clip delle tre pause contro ibs attenzione calma calma mettiamo il mate bravo penso di avercela abbastanza easy questa vero sì che ce l'ho easy dovevo andare dovevo passare dovevo passare prometto che si anche saltare out ibs non chiude un pallone su bravo attenzione penso di avercela easy così si difende bello su struns calmo calmo ragazzi la situazione è semplice possiamo anche fermare questa è farata easy passaggio al mate no non è colpa mia questa mi ha lasciato da solo il mate 1v2 che parata no lo flamma anche no ibs flammato malissimo io però ragazzi aggiungerei questo e rocket league ma vorrei evitare di passare per tossico ma là ci sta una bella scritta questo e rocket league insomma ibs mo flamma pesante è finita poverino però dai non se l'è meritato vai mate un bel che parata se lo merito no ok no quel passaggio quel passaggio vabbè dai ci sta 1-1 ci facciamo un kick off super super rapido spacchiamo ibs bam attenzione il boost ce l'ho vediamo di virgiliare come lui oh questo è un passaggino per me bello bello bam po niente scappa scappa dietro scappa dietro me la passi no ha messa no al lato ibs vale indietro e fa un preflip godo lo anticipo io lo anticipo io niente da fare scappo dietro scappo dietro scappo 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 attenzione a super kakiss calma king di benevento non si farà assaltare così ah ha messo al lato vabbè fino a quando te ne vai in culone va bene fino a quando te ne vai via qual è il problema bello fai quello che vuoi nooo che vai a prendere il boost se sei l'ultimo uomo dietro tua sorella non ho boost non ho boost totalmente zero totalmente vai sup allora sono solo stasera senza vite facile e non ho boost ma allora ci pensa il mio mate giusto giusto ti faccio provare squisci save al volo penso di poterla spazzare tutta a destra così almeno lì non c'è nessuno in teoria di pericoloso facile intercetto ti do bampà e perché proprio tu ecco nessuno in mezzo a due bump 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 su strunzo mi stai accorto della presenza ostile e icon facile non c'è bisogno di vedere basta bampare oh e vabbè è rotto andiamo dietro con molta calma 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 me la passi per favore grazie è bello vabbè dai contro ibs un'altra pausa la facciamo giusto per ricordare i vecchi tempi ecco non ha funzionato corri dietro che quella è impazzito gliel'ha regalata ragazzi out però nel dubbio la tocco lo stesso per alzarla e l'ho messa male l'ho messa molto male molto molto male ho paura di ibs io e se mi caccia un reset è finita mamma che parata muovi ti suppo mo ti devi muovere proprio carriatina sto game lascia 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 la testata che devo dare zero di boost totale messa ivanti in mezzo aspettiamo icon che faccia questo flick non devo rimanere solo dietro preflipino ce l'ho easy sorry per il taglio questo dovrebbe essere easy ancora attenzione piano non ho boost calma bam 10 secondi rimanenti ok è molto lento in attacco questo non stavo andando veloce quindi ho tutto il tempo di prendere il boost sto facendo qua spawna sicuro no devi spawnare ok beh devi spawnare ma che cazzo riparate sto facendo ma dove vuoi andare occhiala botta dove vuoi andare piccolo hives abbiamo fatto il fake bump non ha funzionato si è fatto beccare questa non la parerò mai invece e invece si raga anche all'indietro qua fake non passano raga non passano c'è poco da fare possono fare quello che vogliono ma non passate non passi te l'ho detto te l'ho detto basta provarci abbandonate fate prima anzi aspettate che faccio la cagata forse così potete segnare al massimo ma se io qua sono ingiornata finta sotto calma 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 non ci agitiamo non ci agitiamo dovresti pregiampare un attimino ok bel bump io lo anticipo qui faccio un piccolo pincio mi ha intercettato ma questo penso sia easy facile 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 sparata addosso ok mi ha fatto una finta ma per fortuna il 50 è nostro il mio ammettito c'è l'anticipo salta li prego salta 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 bravo sono fottuto siamo fottuti 13 di boost ragazzi ok vi prego non ho boost ragazzi io sto letteralmente panicando bumpato il mate buono occhio alla botta anche per lui allora sta succedendo qualcosa di brutto ok il boost è mio godo non può segnare è possibile che stai sembrava abbastanza semplice ah la missata ok gg sinceramente la partina mi è piaciuta tantissimo lo stesso ho giocato davvero bene a parte gli ultimi tipo 30 secondi che non si è capito niente perché non avevo boost quindi tipo panico panico e quindi ragazzi un bacione sempre forza bene vi aspetto live su Twitch e su Instagram link in descrizione di tutti i mandi social un bacio ragazzi buon proseguimento di giornata un bacione 2v2 uuuuh vediamo gli alert speed che dovrebbe essere sub dei BDS ma da quando e Atomic campione regionale RLCS che è sta palla che mi è passata attraverso calma ragazzi ma che lobby 2196 mio mate madonna vado io ragazzi si fa così tocchettino a lato l'alziamo dovrebbe essere la voltaccia di Atomic abbastanza easy infatti sono bampato male quello va bene portiamoci a casa questo grande contenuto io non c'entro niente in questa lobby manco Rizun seguiamo attenzione speed olè 100 di boost calma penso di poter anticipare tranquillamente Atomic butto in mezzo e me ne vado me ne vado me ne vado bump niente 100 di boost vai Rizun calma ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho dovrei fare un piccolo ceiling magari se nessuno mi anticipa è meglio ho fatto un must orribile mi aveva segnato lo stesso godo lo stesso raga voi vede quante ore c'ha la Atomic in due settimane ah poca per come ha fatto la lan ragazzi ma che profilo ha ti prego ma che cazzo malattia totale comunque 1 a 1 let's go facciamo un grande grande kick fino alla mia sinistra piano olè ho 0 ragazzi ho 0 va fangool andiamo con molta calma a seguire 100 di boost facile ok no 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 Rizun devi stare calmo non fare cose strane ecco tipo questa Atomic vai via Bubbe sta in mezzo ma ho tagliato male andiamo dietro bravo speed vai vai vieni qua ehi pinta non so se sia sub dei BDS speed o se sia un troll vai speed vai 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 alza sta palla ok Tommy canti ci vado tutto e tutti io faccio questa pinta così se ne vanno di entrambi via perfetto ho preso il boost questa era la mia intenzione speed solo di no mi dici no no è bravo è bravo quasi 1200 mm ci mancherebbe noi diciamo nulla però vediamo il signor Rizun che ce l'ha cosa hai fatto pazzo out 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 via eh raga dovrei avercela is in teoria in teoria sempre che se no fuori bella parata che parata davvero king bel blocco grazie caro vabbò dai però che so ste cose si fa così uno pinta pre flippino lo ha fatto a pre-jamparmi così preciso chi è Rizun uno no atomic come fa la giocattina ed è due uno per loro cosa prima a pushare molto molto prima eh seguo mannaggia mannaggia vediamo un attimo speed ha fatto un bel chicco fino vediamo se posso anticipare no non ho più booster ma io faccio i cazzi mi posso manca bampar niente via 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 vai speed vado a fare una doccia la vostra partita che fece skip aspettiamo no vabbò però questi tagli no questi tagli si bel taglio bravo vediamo speed invece quante ore ha quindi non so se l'ha fatta non lo sapremo mai grande taglio e grande tiro ci sta facciamo un grande kick off alla mia destra e non va bene e non va bene e non va bene seguiamo con calma la radice di 0.098 fa 0.314 315 ah ragazzoli vi insegno come si fa in questi casi atomic vuole anticiparmi non ce la fa piano aspettiamo ancora noi siamo tranquilli bus a 100 ce l'abbiamo easy risum me l'ha regalata giusto yes atomic vuole ci anticipa andiamo al lato vai speed bravo atomic alza dal lato per favore bumpiamo niente bravo speed bumpiamo 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 niente bump finta 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 ok scappiamo di scappiamo di senza problemi senza problemi vediamo atomic che fa godo potrei anticipare o mi buttano non ci credo ragazzo sbagliato ah ah primi bel tiro speed fammi sentire forte le a2 ragazzi carriamo 2200 mmr dai quando vuoi ti carrio non posso fare di map se no ti carrio troppo basta madonna mia fammi entrare in ibds andiamo dietro aspettiamo speed ce l'ho easy finta perfetto vai speed vai vai passala rizzo non leva a tirare palle ehi attenzione perché atomic ha aspettato il mio passaggio ma non ha capito che qua facciamo un preferpino non facciamo capire niente a nessuno sta grande finta non voluta vai vai speed vai vai virgiliano numero 1 rizzo rizzo purtroppo sta giocando bene stai basso come me però come sempre in vp solo uno ehi capo calma andiamo a pompare ehi e qua via ti ha il coraggio venire a sfidarmi ah piccolo uomo cosa vuoi fare bene sono spawnato nel lato sbagliato sono in mezzo a una guerra sono finito vado eee eee finta eee mamma mia ragazzi cosa succede quest'oggi burliamo tutti e bump raga l'abbiamo bumpato nessuno c'è in porta nessuno lo ribumpiamo cosa fai speed sei impazzito speed sei impazzito speed l'ho bumpato il portiere sei impazzito è impazzito non mi ha guardato raga facciamo finta di fare l'occhiale a botta li metto qua così speriamo atomic non salti invece non c'è cascato ti prego ti prego mate aiuto ok questo è facile in teoria cazzo se no la leggi tu sta palla e ash venzi ho capito ti viene a pushare qua vieni vieni buono buono posso bumpar god l'ho bumpato vai vai stiamo dietro atomic levati rizuna non puoi non puoi tarlo cioè impossibile vediamo di stare calmi la palla non sa come non si è ribalzata a terra ma così ha detto il gioco non ho più boost ragazzi cioè se avessi avuto boost qua ma che giocata avevo fatto ragazzi pinta pick off lentissimo sfondamento cazzo è fatto tutto il boost mannaggia la miseria tira 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 ok non mi anticipa mannaggia Eva mannaggia mannaggia Eva sono lì in due ragazzi posso godere passamela ti prego open ragazzi vogliamo parlare di quanti punti ho fatto vogliamo parlare di quanti punti ho fatto la lobby ai miei piedi la lobby ai miei piedi per il king di benevento gg bel game atomic scriverà gg scappa bella partita raga anzi vi faccio l'outro così se non rompete il cazzo con la qualità e basta vi aspetto tutti i giorni dai per i link in descrizione trovate anche il mio instagram trovate anche i social iscrivetevi al canale youtube e twitch e tutto un bacione ok non me l'ha rubato godo ooo lì madonna che gol mamma che gol mamma che gol mamma che gol calcolato calcolato la perfezione il movimento della palla e della palla mamma mia ragazza voglio parlare di questo gol incredibile schiacciano a terra e poi il preflip mamma mia che king ragazzi grazie